PEGI 18 SEGA LE DONNE MI CHIAMANO E' IL TORO! Ehi, voglio vederti cullare! Tutto questo combattere mi scalda! Buon vecchio ucce! Che dici, Matilda? Sei pronta a lasciare quest'idiota per un lavoro vero? Ad Amala e me servirebbe un altro gacciatore nella squadra. Conosco la procedura. Sparare per uccidere. E' vero, sono un killer, proprio come te. Solo che le mie vittime meritano di morire. E' vero! 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 E' vero!